È il momento dei confronti. Io avrei voluto 22 persone che mi aiutassero a risolvere un problemino. Mi ha fatto molto male. Perdonaci. Tutte quelle cose che provavo erano veramente autentiche. E fatte col cuore. Manchi. La tensione sale. E' aggravato. Un 5 al televoto. Chi vuoi salvare? Grande Fratello VIP. Lunedì, prima serata. Canale 5.